L'epoca 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 Questa Mancava questa Sembra che ci sia una falla anche nel nostro sistema Da proprio così Il sistema Hai la macchina fotografica Vede Vedo sia ora di mettersi al lavoro per il vecchio picci Scattagli qualche fotografia e leviamo le pente Occhio! Occhio! E' un dovere denunciare... Eh, lo so... Aspetta, aspetta... Vai! Mu, appena vedi un ricombinante ragno C'errebbe quello che c'erano quelle con testione Sì, sì... Ti stanno a spara... Ti stanno a spara... Come sta a sedizione? Sta un po' giù Eccolo! No, ti stavamo da duri Potevamo scopare E' capire il mio cazzo motion Senti, ma ando cazzo, il mio cazzo dove andava? Andava bene, sì Triangolo? Triangolo? Senti, tu devi riuscire a prendere Ah, ok E' la pellico Ah! Si sa che qua c'è un ricombinante run Ah, non lo sa più Sì... Come ti dice? Vulnerabile proiettile anti-cum Che sono quelli rossi Quindi si prendi sopra Ma chi ti caga? Oh! Ho cambiato arma Ok, l'emozione... Ma l'emozione non ha voce Tu chiama le se vuoi Oh! Ricombinanti! Ok è morto Perfusisci un po' il ricombinante Ordino di ricombinante run Sarebbe un kit medico Cazzo, cazzo... E' il rumore del po' La pena di morte a Rapture Il consiglio è indotto per di qua Parlano di rivolte per le strade Ma questo è il momento di mostrare il fusione La Tommy gun Bisogna agire contro i contrapattori Oddio il ricombinante run Quella Giustamente ci troveremo Quella no Quella no Dove ho porta? Però io non so se avete notato le porte Di Rapture come sono Cosa rappresentano Non so cosa vi ricordano Esce là Esce là Esce là Vabbè Esce là la porta Ma questa è la pizze Cosa è la pizze? Cosa è la pizze? Cosa è la pizze? Oddio quello l'ho assoluto appriso? No! No è morto quella pizze No è morto quella pizze Vedi cosa ci dice Finuta Ah qua devi farci Lei è finita qua vicino Letto Sky Rosamberg vuole parlare Di questa storia di contente Vai Ok Sto cercando di creare un mercato finanziario come si deve Questo idiota insiste ancora con Adam di qua e modifiche genetici da Passerò un'ora fingendo di ascoltare Oh mio dio E tornerò a casa per il possibile Adolas che parlo e non parlo Ecco dove siamo Mi fatti in giro che testo di cazzo Immagino allora che sarà l'impresario Che verrà a scorcare l'elvater ogni due settimane Giusto? C'è il prezzo che la preoccupa Vago io la sicurezza per l'ottone Quindi stia sereno Perché dovrebbe farlo? Mi dice Beh, Mr. Ryan Profitto o no, nessuno spalla merda Dai cabinetti costruiti da Bill McDonough Nella vecchia fattoria Beh, bello scuomo L'impresario dovrebbe essere di McDonough Dioia No No Mi sto avvicinando al giro No Ciao peccato originale Ciao peccato originale E' morto Oh maronne MARONNE Come una catapult Boom No si sta curando Si sta curando Oh Pitch 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 Stavo qua Stavo qua giù Stavo qua giù il cadavere Vengo lì e ti picchio La mia collera Si abbatterà su di te Ecco la ricombinante ragno E ci sta Ci sta Ci fai l'uomo per chi si arrampita Aspetta Vai Ok Ah questa Abbiamo su Instagram Come sta? Wow questo che bel filtro Si Filtro Aspetta Mi schiaffi il giro? Nooo Nooo Stai accendo Stai accendo Stai accendo Nooo Nooo Non avevo visto C'era poca energia Stavo avevo pensato alla foto Nooo Non stanno Qui c'ho un solo Tutti Li puoi comprare da qualche parte Ci stava un Sikus Qualche cosa Da qualche parte Andare No di qua Qua a destra Sali Destra ancora Sinistra Vai dritto Vai dritto Shots Non devo prendere tutti Mastri Due proiettili Attenti bomba Magari sono più fia Cosa c'è questa tizia? Ah Più i perforanti Ok Qua c'è stato un Sikus value Zero Oh ecco Un po' Un po' è quello che abbiamo in gelato Ah ah Un po' Un po' Un po' Un po' Un po' Perfetto Perfetto Guarda che c'è 38 proiettili Quanti uomo Ti conviene mettere i proiettili normali Oppure il Magari anche questo Dato prima buca Eh se no Mi conviene Se non mi metto prima questo Perché Sparare ieri in bocca proprio Ah bravo bravissimo come è diventato bravo pallettoni esplosivi poi li devi avvicinare abbastanza vai che gli fanno un botto questi qua vai l'ultimo è morto salva la sorellina salva la sorellina triangolo mi raccomando triangolo ok sembra tipo il miglio verde cazzo mamma mia caprile mortale johnny è l'os sei riuscito a salvarti le tia hai qualcosa per me e la mia gente sei solo in cerca di insulti tu sono due intanto io metto su un caffè e magari fanno fuori l'argenteria e tutto il resto sento sporco di sangue qua veramente il caffè e pasto veramente la pretesco un piccolo avvertimento prima di entrare nelle piscine il vecchio pici sembra onesto almeno quanto tuda teni gli occhi aperti nice cosa mi dice mi hai disegnato qualche cosa non ho passato nessuno entra in casa di armato metti le tue armi nel tubo pneumatico e ti vanno e la non ho saputo prendi prima quel tonico oh no se questo è il suo prezzo allora dovrai pagare ma non posso trasmettere ah mi sciogli prima il ghiaccio mi ce li vinto no ma prendi sempre l1 non lo faccio ma sciogli ah allora mi sono passato ok un altro pezzo forte della linea tritonici generici ah 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 ma devi scegliere ma scelta allora aspetta prendi l1 tieni e prendi l1 quadrato si è bloccato il gioco no no tieni e prendi l1 fai quadrato ok raccogli questo o se siamo carichi di eh cadaveri cadaveri no questo ciao dobbiamo metti tutto qua dentro non hai la chiave le tue armi a parte la chiave inglese ultima ah qua devi sempre sciogliere ok cazzo vabbè ah adesso ha qualcosa che serve a vedere le grandi cose che deve avviere le casse forti le casse forti le casse forti no quanto di fili di sto posto? no che è diventato tutto buio anche proprio cazzo come? devi combattere contro fish subito e quello ha detto però non hai armi tranne la chiave inglese non ti preoccupare le recupererai armi andati qua devi rispettare quindi ryan è un ballista e tu sto andando di là però aspetta aspetta eh? sto andando di là aspetta dov'è perciare ma dov'è per sparare no era nostro nostro bravo tagli il fuoco questa testa merda ah ci sono anche gli altri ricombinanti recupera recupera una pistola per poterla recuperare qua 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 vedi qua c'è una pistola qua qua ok sparalo finito usciranno altri ricombinanti cambiamma dove cazzo sto? oh questa è una roba ah no che c'è la pistola avete sempre recuperato i colpi dopo in quel pokemon qua qua in questa cosa o qua? nel circo steloso non te li dà vabbè black ci stanno inizio medici non posso scendere 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 ok, puoi essere scendere un proiettile wow l'hai preso però fatto pure così non lo so non lo so non lo so vai 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 continua continua ma c'è qualcuno di spara eh guarda questa la trapezza no no c'è una trapezza non c'è dentro però non spara a lui spara a te oh ti stava merda ma qua non mi sarebbe comprare qualcosa c'è il pisello che ha fatto? un truccolino per scappare ferma, tu hai stato eliminando il mezzo ma anche un kit medico l'ho dato oh, poi entri occhio oh, che minchia ha fatto guarda lui là la motov bravo, bravo, bravo bravo, bravo quando ti fa scantare l'allarme? no, ti hai preso devi attivare quello che devi abbassare per il corpo abbassa questo, abbassa questo vai faccia p***a, fuoco ovunque vai cappelluto ma che avevo sostenuto la motoviglia di calma va, va, va 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 non è morto ancora no, non hai fatto niente perché non mi cambia cosa non si capisce un cazzo che va che va che va aspetta però non saldare ancora adesso fai prima a finire tutto il casino questa è una stazione di power up delle armi però puoi aggiornare soltanto un'arma scegli ben l'aggiornamento che vuoi allora, le armi che sono più sono i fucile a pompa e il mitragliatore e la mitragliatrice frequenza di foto del fucile aumento del danno del fucile aumento del danno del mitragliatrice riduzione del rinculo della mitragliatrice scegli tu sono d'accordo che si alza completamente ok, ora non si può usare più questa stazione ah, va bene puoi sciogliere di qua puoi sciogliere questo ghiaccio di qua c'è l'ho entra qua dentro ciao ora rimaneremo molto stabili ti è esploso una mina davanti oh, qua possiamo ma non abbiamo salvato non è ancora non se lo puoi salvare non abbiamo più kit medici porta a puttana non è ancora lo so salviamo non vuoi mettere mamma bravita ora comunque non mi ha più dopo salva salvamo salva vediamo ok abbiamo il grimandello Questa è? Quadrate Un'altra che un'altra Ma muovìa di lusso proprio Perfetto La c'è un'altra porta Scioglio ma mo Scioglio le tecci i cavalli Non la so Non la sa Che merda miscia tutta C'è tecci i cavalli Scorreggia E' per non Non rimollare, Fontaine ti troverà. Si fotta Fontaine. Tu non fotti Fontaine. Fontaine. DROGA! L'SD! Non mi avevo detto tutte quelle serie strane delle droghe. Qua devo scioglierla. Non devo scioglierla. Non devo scioglierla. Ma che ci penso? Wow! Una passeggiata. Ehi, ora stai facendo un po' la passeggiata. Ed è figa! Mi sono cagato sotto. Per un attimo ho detto che sto scrivendo nero. Perché mi fai questo? Corso di Contrabandieri. Senato, sei un Contrabandiere? No. Quindi ragazzi, se hai bisogno di Contrabandieri, vi è piaciuto? Comenzate, condividete, aggiungete le pesche e iscrivetevi al canale. Vi ricordo che le pesche sono buone. Se non mi piace le pesche. Se non mi piace le pesche. Perché fanno bene. Specialmente nel vino sono buonissime. Qua è scritto di Bioshock. Ciao belli!